La bandiera rossa, nera e verde dei ribelli libici sventola sul minareto di una moschea Zawiyah, centro strategico sulla strada che collega Tripoli alla Tunisia e che permetta alle forze di Gheddafi di rifornirsi di carburante. L'avanzata delle milizie ribelli in questo porto sul Mediterraneo è la novità più rilevante in settimane di combattimenti, ma il fronte resta fluido, il regime libico nega che la città sia caduta nelle mani degli insorti e anche questi ultimi ammettono che i cecchini di Gheddafi sono ancora postati sui tetti degli edifici più alti. Si combatte anche per Gariano, 80 chilometri a sud di Tripoli. Se i ribelli dovessero assumerne il controllo, accercherebbero la capitale. Nella Libia orientale lo snodo petrolifero di Brega continua a essere presidiato dalle milizie del Raïs. Gli insorti mantengono la pressione, ma vogliono limitare le perdite dopo le 16 vittime subite negli ultimi tre giorni.